Passiamo adesso all'oggetto numero 100, è un'interrogazione presentata dal Consigliere Ricci e rivolta all'assessore Paparelli. Tendenza in crescita di circa il 10% del turismo tra Italia e Spagna, intendimenti riguardo all'attivazione di un collegamento aereo con modalità continuativa annuale, Perugia-Madrid. Informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, Consigliere Ricci. Grazie, signor Presidente dell'Assemblea legislativa e l'atto 1221 afferente allo sviluppo dell'aeroporto internazionale dell'Umbria. e vi è l'indicazione relativa alla linea aerea da istituire, secondo la interrogazione in forma permanente, fra Perugia e Madrid e in via alternativa fra Perugia e Barcellona. Nei dati che emergono anche per il periodo estivo in particolare, gli italiani che si dirigeranno all'estero per motivi di vacanze nei prossimi mesi, per il 61% andranno a privilegiare la Spagna. Di converso, gli spagnoli che usciranno dal proprio Paese, sempre per motivi afferenti a viaggi turistici, per il 58% sceglieranno l'Italia. Questi due dati sono molto interessanti e, peraltro, in crescita nel periodo 2016-2017 del 10%, e gli intervistati afferenti a tali indicazioni statistiche chiedono anche, per l'implementazione delle loro attività turistiche, un maggiore ricorso a voli aerei low cost. Vi è quindi una indicazione di un ampio mercato in itinere di sviluppo, non solo sul piano turistico, ma anche su quello economico. E l'indicazione della linea aerea Perugia-Madrid è anche afferente ad un aeroporto internazionale, a quello di Madrid, molto importante per le connessioni europee e internazionali. Oltre che la connessione con Madrid assicurerebbe anche itinerari aerei, per esempio verso Santiago de Compostela, e altre mete afferenti al turismo religioso e dei pellegrinaggi. Un'ultima notazione, il nodo Madrid è anche un nodo di arrivo per i flussi provenienti dal Sud America, in particolare in questo momento attivati anche dalla comunicazione collegata al Papato, connesso con Papa Francesco e alla sua origine appunto legata al Sud America. Per tutti questi motivi e anche per la necessità che alcune linee aeree, oltre per il versante turistico, vengano attivate permanentemente anche per lo sviluppo di attività legate allo sviluppo economico, se nei programmi della SASE, della Società di Gestione Aeroportuale, e quindi afferenti anche alle strategie della Regione Umbria, vi è la prospettiva di istituire un volo permanente tra Perugia e Madrid, e in alternativa con la destinazione di Barcellona. Il Consigliere Ricci richiede, nell'ambito del ruolo di rilievo giocato dall'aeroporto San Francesco di Assisi, quale attrattore di flussi turistici in Caming, se nel piano annuale delle attività di promozione turistica integrata al 2017 della Regione è stata inserita l'attivazione di una linea Perugia-Madrid. Va sottolineato, Consigliere, che il piano non include indicazioni specifiche sulle rotte da attivare o sostenere, mentre vengono indicati i mercati obiettivo esteri, sui quali si concentrerà l'attività di promozione e comunicazione. Attualmente i mercati obiettivo sono stati individuati sulla base di un dato storico relativo ai flussi turistici dei paesi di provenienza e tenendo conto dei maggiori trend sui mercati emergenti. In particolare i paesi obiettivo individuati nel piano sono Belgio, Paesi Bassi, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Cina, Francia, Scandinavia, Irlanda, Austria, Svizzera e Polonia. Come si evince da questa breve elencazione? La Spagna non è stata al momento inserita tra i mercati obiettivo perché attualmente è solo il tredicesimo paese per provenienza di flussi turistici in entrata, subito dopo l'Australia e prima di Israele. Rappresenta dunque un mercato di incoming interessante per il futuro, ma che per il 2017 ancora stiamo monitorando e stimolando anche attraverso le attività di sviluppo del network di SASE. Pur non essendo inserita tra i mercati target, comunque la Spagna ha rappresentato nel passato un buon bacino di traffico per il nostro aeroporto di San Francesco. Ryanair ha operato per diversi anni, fino al 2015, una rotta da Barcellona a Girona con uno split 50-50 tra incoming ed outgoing. Il tour operator in viaggi di Terni, inoltre, ha operato per alcuni anni dei charter su Palma e Ibiza. Durante il periodo di esercizio del volo all'Italia su hub Roma-Fiumicino, Barcellona e Madrid risultavano tra le prime 15 destinazioni per i voli in connessione, lontane però da altre destinazioni nazionali ed internazionali. Nel 2013-14 erano stati avviati i contatti con Iberia Express per Madrid, la Welling per Barcellona, proprio per identificare un collegamento che agganciasse il network spagnolo del gruppo IAG da verso Sud e Nord America. Purtroppo queste iniziative non hanno portato altri risultati che alcuni voli natalizi e pasquali operati da Welling, che nonostante il buon riscontro di traffico, non si sono sviluppate in rotte a maggiore stagionalità. Il punto di svolta è arrivato su questa vicenda con la visita privata del CEO di Air Europe e del gruppo Globalia, Javier Hidalgo, alla nostra Regione. Air Europe è il terzo vettore spagnolo per traffico di passeggeri, con basso operativo a Madrid, con una flotta di circa 50 aeromobili e un network internazionale che copre tutti i principali mercati delle Americhe. Una prima trattativa era stata avviata con il management quando è stato reso l'accordo tra il vettore spagnolo e Ryanair per la commercializzazione integrata dei propri voli. La trattativa è stata pertanto allargata anche a Ryanair e SASE ha richiesto un incontro per poter valutare l'avvio della rotta Madrid-Perugia già dalla stagione IATA Summer 2018, quindi dalla prossima estate. L'obiettivo è di assicurare un volo bisettimanale operato a metà giornata in modo da agevolare possibili connessioni con il network intercontinentale del vettore e favorire pertanto l'arrivo di turisti dai principali mercati del centro e Sud America in primis. Un eventuale accordo porterebbe anche la possibilità di accordi commerciali con il tour operator Trader Plan controllato da Globalia al fine di inserire l'Umbria nei loro pacchetti dedicati all'Italia e destinati ai clienti latino-americani. Quindi, in sintesi, uno non essendo nel piano annuale, perché non è uno dei nostri mercati obiettivo del 2017, dove andiamo a rafforzare e a consolidare i primi mercati che danno provenienza turistica all'Umbria, stiamo lavorando per il 2018 proprio per le motivazioni, tra le altre che ricordava il consigliere Ricci, perché è un mercato in espansione nei confronti della nostra regione che va valutato con attenzione anche e soprattutto alla luce del fatto che l'Umbria sta puntando in maniera molto importante sul tema di prodotti, diciamo, tra virgolette, religioso-spirituali come quello dei cammini. Grazie. Prego, consigliere Ricci. Grazie, signor Presidente dell'Assemblea legislativa. Prendo atto dell'impegno strategico per il 2018 nella connessione Perugia-Madrid. Faccio soltanto una notazione, quella di poter sollecitare in questo itinerario esplorativo anche la compagnia aerea Iberia e quelle collegate con Iberia, perché credo che vi dovrebbero essere degli interessi anche nel quadro nazionale Spagna-Italia. Oltre che, sottolineo, come i dati emergenti che i signori consiglieri regionali possono acquisire fanno determinare la scelta sulla Spagna come una scelta prioritaria, diretta ma anche indiretta, perché il nodo Madrid è un nodo sostanzialmente importante anche per i flussi internazionali diretti verso l'Europa. E insistere molto nei low cost come ulteriore indicazione è certamente importante, perché i vettori low cost oggi sono dei veri e propri tour operator che trasportano non soltanto passeggeri, ma passeggeri che hanno un pacchetto turistico acquistato e quindi sono attrattori in incoming verso le destinazioni di flussi turistici e svolgono anche un ruolo molto importante in low cost nella comunicazione, nelle reti vendita attraverso Internet e i social network. E quindi io mi auguro che non solo si insista su questa linea Perugia-Madrid e venga attivata permanentemente, ma che poi si faccia ulteriore attenzione sullo sviluppo dei voli low cost e sulle attività di promozione turistica connessa con i social network e anche collegata con il motore di ricerca Google Italia. Grazie. Bene, concludiamo il question time con l'ultima interrogazione che presenterà il consigliere Fiorini rivolta all'assessore Chianella tempi previsti per il ripristino della viabilità della valnerita colpita del terremoto nel 2016. Prego consigliere Fiorini. Grazie, Presidente. Sono trascorsi dieci mesi dall'evento sismico di agosto del 2016 e otto mesi dal terremoto di ottobre del 2016. Soltanto il giorno 8 luglio 2017, soltanto parzialmente in certi orari a senso unico alternato, è stato riaperto il tratto dei 20 km della strada provinciale 477 tra Norcia e Castelluccio. Tuttavia, nella zona Umbra, colpita dal sisma, le principali vie di collegamento dell'Umbria con Norcia e Cascia, dai verso Visso e la regione Marche, la regionale Valnerina, la strada di 685 delle tre valli Umbre, la galleria di San Benedetto, Forche e Canapine e viadotti annessi, in alcuni tratti, sono ancora completamente chiusi al traffico. La viabilità rappresenta un treno essenziale per la rinascita della zona della Valnerina colpita dal sisma, sia per la sua ripopolazione e rilancio in tema economico, sia per il settore turistico. Tutto ciò premesso e considerato, si chiede all'Aggiunta quali tempisti che sono previste per la riapertura delle suddette vie e, scusate, delle suddette vie di comunicazione. Bene, prego Assessore Chianella. Allora, con ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 15 novembre 2016, in attuazione del Decreto Legge 205 2016, l'ingegnere Soccodato di Anas è stato nominato soggetto attuatore per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali danneggiate da sisma, rientranti nella competenza Anas S.P.A. delle Regioni degli Antigestori Locali. In base all'articolo 4 della suddetta ordinanza, il soggetto attuatore ha quindi provveduto a redigere il programma degli interventi per il ripristino della viabilità e messa in sicurezza della rete stradale contenente gli interventi finalizzati al superamento delle criticità connesse con la situazione di emergenza. Il primo straccio poi, presentato alla metà del mese di febbraio, è stato anche rimodulato. Dobbiamo dire che gli antigestori potevano, nel caso specifico, le province e i comuni, opzionare gli interventi, cioè la gestione degli interventi a se stessi, quindi, diciamo così, togliendoli da Anas. e bisogna dire che la provincia di Perugia, per esempio, per quanto riguarda la strada di Castelluccio, ha fatto questa opzione, l'unica provincia che ha fatto questa opzione. Dobbiamo dire che è stata una opzione felice perché l'8 luglio scorso, appunto come il consigliere Fiorini legge nella sua interpellanza, è stata riaperta, ancorché, diciamo, alcuni tratti a senso unico alternato la strada per Castelluccio. Sulle questioni invece poste alla domanda della interrogazione per quanto riguarda la Galleria di San Benedetto Forca Canapine, nel cronoprogramma, noi sappiamo che è stato, diciamo così, consegnato il cantiere e nel cronoprogramma leggiamo, appunto messoci a disposizione da Anas, ma è un cronoprogramma lunghissimo che prevede interventi nelle quattro regioni che possiamo anche mettere a disposizione, gli interventi che devono essere fatti per venire alla riapertura della stessa galleria non dicono intorno al febbraio del 2018, quindi fra 5-6 mesi, non prima. Ovviamente non sono solo questi lavori da fare appunto sulla 685, ma ci sono anche lavori urgenti di ripristino di reti a contatto per lustrazione e disgaggio di installazioni di barriere e quant'altro sulla 685 a ridosso della stessa galleria, mentre tanti altri interventi sono stati fatti sulla 685 durante il periodo subito successivo appunto all'evento sismico. Quindi per quanto riguarda invece la 209 così come indicato nella interpellanza il tratto interrotto è nella regione Marche e quindi non nella regione Umbria, cioè la strada che collega Preci a Visso la frana che ha interessato purtroppo la interruzione dei collegamenti sta nel versante Marche. Anche qui leggiamo che gli interventi urgenti di ripristino della transitabilità di sistemazione dei versanti sono stati collocati in un arco temporale del dicembre 2017 quindi i lavori che verranno fatti presumibilmente per la riapertura la sola riapertura della strada andranno a fine dicembre prossimo mentre poi i lavori di interventi definitivi di ripristino del corpo statale di stabilizzazione dei versanti eccetera avranno dei tempi più lunghi che leggiamo in giugno 2018 quindi questo è il quadro io credo che complessivamente il dinamismo e anche diciamo così il lavoro che ha svolto la giunta regionale su tutte le questioni inerenti al terremoto per quanto riguarda la regione dell'Umbria e anche sulla versante viabilità siano state sicuramente positive e da ultimo ricordo appunto l'apertura della Castellucciana grazie prego consigliere Fiorini per la replica grazie presidente sono assolutamente insoddisfatto delle risposte dell'assessore non tanto per quelle che sono le sue responsabilità dirette in fatto di viabilità ma più che altro per le responsabilità che sono a capo della presidente Marini come vice commissario alle ricostruzioni del commissario Errani e del governo Renzi Gentiloni è passato quasi un anno dal primo sisma in Valerina del 24 agosto e ancora parliamo di progetti finanziamenti bandi studi verifiche dopo un anno è ancora un tutto è ancora tutto un vedremo faremo proveremo no non è possibile continuare secondo me in questo verso a distanza di un anno questo non è possibile mezza strada 20 chilometri assenso alternato questo come dicevo prima e ripeto in un anno non è accettabile ci sono poi ancora forti ritardi nella ricostruzione nel ripristino della viabilità mancano le casette mancano le idee avete attivato gli studi di microzonazione con mesi di ritardo le macerie sono ancora al loro posto siamo di fronte di fronte a ritardi frutto di incompetenza incapacità a gestire l'emergenza appalti sui quali bisognerà far luce e una generale disposizione alla mediocrità grazie bene grazie allora con questa interrogazione abbiamo concluso il question time grazie 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 grazie